Cassola. È morta praticamente nel sonno. Ogni tentativo di soccorrerla è risultato inutile. Lutto nel Bassanese in tribunale a Vicenza per la morte di Alessandra dalla Pellegrina, 49 anni, prima vigilessa a Bassano e poi cancelliere della Procura della Repubblica. Un malore, poco prima dell'alba, l'ha strappata i suoi cari. I medici dell'ospedale di Bassano sono intervenuti alle 5 e mezza nella sua abitazione di Cassola, dove abitava con il marito e i figli, ma per lei non c'è stato nulla da fare. Dalla Pellegrina ha lavorato per diversi anni al comando dei vigili di Bassano, suo primo incarico alla pubblica amministrazione, salvo poi ottenere il trasferimento negli uffici giudiziari di via Marinali, dove ha prestato servizio nella segreteria del sostituto procuratore Giovanni Parolin. Sulla sua scrivania questa mattina, un mazzo di fiori.